4 vittorie di fila, 3 punti di distacco dal primo posto, 19 turni di campionato all'orizzonte per mettere in atto il sorpasso sull'audace Cerignola e tenere a distanza chi insegue. Il Bitonto ha ripreso il 2022 come aveva chiuso il 2021, vincendo nel 3-0 sul campo della Nocerina c'è stato anche il ritorno al gol di Riccardo Lattanzio. Un attaccante vive di gol, quindi la cosa importante di là del gol mio era dare continuità alla partita fatta con Francavilla, quindi siamo contenti per questo. Fa parte di un attacco che annovera nomi del calibro di Santoro, Iadareste e Taurino, Lattanzio, tante alternative per un campionato che sconta una maxi incognita all'orizzonte, i contagi da Covid. Ti può falsare perché il frutto del lavoro che ti porta all'allenamento è molto importante rispetto alla partita della domenica, quindi a di là delle squadre ambiziose o meno, diciamo che io faccio un esempio che dall'anno scorso ho due squadre come l'Andria e il Taranto, penso che non abbiano mai avuto una continuità del genere, invece gli altri hanno avuto difficoltà perché c'è stato un periodo dove tutti erano pieni di Covid. La piccolezza ti fa la differenza. Continuità è la parola d'ordine che il Bitonto chiede al suo campionato. La squadra sembra aver superato il momento di massima difficoltà con 5 punti in 6 turni tra la decima e la quindicesima giornata. La continuità ti dà il vantaggio e poi tanta fame per arrivare all'obiettivo finale, quindi massimo impegno e tanta voglia di arrivare all'obiettivo. Spazio anche per un passo indietro al mese di dicembre quando il giudice sportivo ha diffuso l'entità delle squalifiche a carico di Lattanzio Petta e una multa di 750 euro per il Bitonto per i fatti della partita contro il Fasano dello scorso giugno. Sanzioni già scontate. È un peccato perché veramente non è successo niente. Ripeto, se ogni domenica, e può anche confermare lui in campo, se ne dicono veramente di cotte e di crude, veramente. Quindi se ogni volta va a denunciare qualcuno perché ha sentito dire determinate parole, allora non si gioca più a calcio. Il presente intanto coincide con la trasferta di domenica prossima sul campo del Rotonda. Riscattare il 2-2 incassato nel primo turno di campionato è una motivazione in più per Lattanzio e Soci. È una partita molto difficile perché comunque tolti i punti di penalizzazione Rotonda è a metà classifica se non più. Adesso non ricordo bene i punti che ha. Comunque è un campo stretto, piccolo, bisogna lavorare bene perché cercheranno in tutti i modi di fermarci e ancora di più perché servono i punti per la salvezza. Non è facile.